Il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo volta pagina, il diploma rilasciato, ottiene l'equiparazione a una laurea triennale. Sentiamo Domenico Cangemi. Professione Cinema, si aprono nuove prospettive per gli studenti che frequenteranno il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. Il diploma ottenuto sarà equiparato alla laurea triennale. Un passo importante per chi voglia intraprendere questa strada. 12 gli studenti ammessi, già disponibile il bando che scadrà il primo ottobre. Noi come Sede Sicilia prepariamo il mondo del lavoro, nel senso che il nostro è una scuola del fare, per cui i ragazzi quando escono sanno già lavorare e la possibilità di fare una specializzazione a stretto contatto con le produzioni, con il mondo proprio attivo, è una cosa molto molto importante. Consente di valutare questo corso di alta formazione alla stessa stregua della formazione accademica, sebbene lo specifico della formazione che il Centro Sperimentale di Cinematografia, che noi come Regione Siciliana e Sicilia Film Commission sosteniamo interamente, abbia una connessione molto più diretta con la pratica del fare cinema, con le poetiche e le pratiche del fare cinema.